A Liguria sempre meno sportelli postali e bancari, in sofferenza 125 comuni, soprattutto i più piccoli. I dati nel servizio di apertura di Mariangela Bisanti. Il più grande Quiliano in provincia di Savona, oltre 7300 abitanti senza sportello bancario. Il più piccolo Rondanina in provincia di Genova dove i 69 residenti non possono depositare o prelevare. In mezzo, secondo i dati di Fabi, Federazione Autonoma Bancari Italiani, altri 123 comuni per un totale di 119.671 Liguri, il 7,9% della popolazione regionale. Tutti sprovvisti di banca e nella quasi totalità dei casi anche senza sportello Bancomat. Da Castiglione Chiavarese a Framura, da Urbe a Castellaro, più i comuni sono piccoli e più, in caso di cancellazione di servizi al cittadino, la mannaia cade su di loro. E se la Liguria, a confronto con altre realtà, non ha la percentuale più alta, il primato tocca al Molise, la desertificazione delle filiali denuncia comunque una progressiva perdita di aderenza al territorio per gli istituti di credito. Vero è che alla chiusura delle agenzie è corrisposto un aumento dei servizi digitali, ma nei piccoli comuni, dove la popolazione è prevalentemente anziana e la cultura dell'home banking poco radicata, la perdita di sportelli è soprattutto una perdita di tipo sociale. Lo stesso per le poste. Negli ultimi quattro anni, gli sportelli in Liguria sono passati da un migliaio a poco meno di 800, secondo i dati di SLP Liguria, il sindacato dei lavoratori delle poste della Cisle, e anche dove ne sono stati aperti alcuni, nove uffici in tutto. Questo inasprisce una situazione critica sul piano dell'organico. Domani, a mercoledì, i circa 3.500 dipendenti Liguri andranno al voto per il rinnovo delle rappresentanze sindacali e tra le vertenze proprio la carenza di lavoratori e la chiusura degli sportelli. La cronaca, ancora un giovane...